A questo fine, grazie. La ringrazio. A facoltà l'onorevole Toia. Molto importante per due ragioni. La prima è il tema della ricerca che riguarda la lotta alle malattie neurodegenerative e la seconda è la modalità della programmazione congiunta nella ricerca. Avremmo ovviamente preferito, ed è stato detto ed oggetto della nostra interrogazione, una più diretta partecipazione del Parlamento al progetto pilota. Se ora non dobbiamo fermare le cose e dobbiamo procedere, chiediamo però garanzie che il nostro parere sia tenuto in conto nel ricepimento del Consiglio Competitività e che si chiarisca per il futuro una base più giuridica, più certa, per un pieno coinvolgimento del Parlamento e per una più piena titolarità in questa materia della ricerca. Ora dobbiamo intervenire con adeguati mezzi e risorse per prevenire e debellare una piaga così diffusa come l'Alzheimer, Parkinson e le altre malattie che sono destinate a crescere di fronte all'invecchiamento della popolazione. Chiediamo che ci si concentri su studi di grande dimensione e di vasta scala, sia rivolti alla diagnosi che all'individuazione delle cure. Fondamentale sembrano essere le ricerche sui biomarcatori, sulle metodiche di diagnosi precoce basate su un approccio multidisciplinare, la costituzione di vaste banche dati, la ricerca di farmaci curativi e di modelli di cura e di servizi appropriati. Una sola sollecitazione mi sento di fare in questa sede non si trascuri né la soggettività dei pazienti, troppo spesso esclusa in questo tipo di malattie, né il coinvolgimento delle associazioni, dei pazienti e dei parenti. Sotto l'aspetto metodologico i progetti di ricerca congiunta riteniamo siano molto importanti perché rispondono a un'esigenza fondamentale, quella di concentrare sforzi e risorse, di superare quelle frammentazioni, quelle duplicazioni e poter fare così una massa critica sufficiente a dare esiti adeguati a questo tipo di ricerche. Se si pensa che in altre aree del mondo gli sforzi congiunti, pubblici e privati, arrivano a investire decine di milioni di euro, noi ci rendiamo conto di quanto ci resta da fare e di quanto dobbiamo fare, convergendo su progetti condivisi, su linee strategiche e programmi condivisi tra gli Stati e l'Europa e su programmi comuni tra soggetti pubblici e privati, senza trascurare quella cornice internazionale che ci mette in contatto con le grandi realtà scientifiche a livello internazionale. Grazie a facoltà per un minuto. Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, oggi discutiamo una proposta di risoluzione sulle malattie neurodegenerative. Dovrebbe essere però una direttiva che dovrebbe essere trattata come tale. Si parla qui di Alzheimer, di Parkinson, sono malattie che rappresentano la grande sfida. spettacolo